Si è creata un'immagine di questa valle e tutti quelli che tentano di definirla cadono nella trappola del villaggio di Asterix, magari con buone intenzioni, tanti che si schierano contro la tavola e appoggiano la lotta alla valle ne hanno un'immagine altrettanto semplificatoria e ridicola degli avversari, però si offende quel territorio, si offende quella complessità e si offende anche quella lotta. Io penso che si debba sempre ricordare che il movimento contro la tavola è il più calunniato e il più offeso nella storia dei movimenti italiani, ma nemmeno i movimenti giovanili violenti degli anni 70 venivano rappresentati in una maniera così ridicola e offensiva e mascalzona.